Notte sotto le stelle, una piacevole esibizione a Rutigliano, quella della Los Angeles School, una compagnia di ballo nata nel 2001 e diretta dal maestro ballerino, coreografo e giudice di gara nazionale abilitato Antonello Sacchetti. Una serie di interessanti e coinvolgenti coreografie affidate all'estro musicale unito alla grande passione per la danza, quelle proposte nella piazza Rutiglianese. Una esibizione è quella della scuola di ballo conversanese dettata dalla grande passione tipica del ballo dell'America Latina, con evidenti tratti di spontaneità, sentimento, coinvolgimento e allegria. Una performance che porta l'immaginazione alla scoperta delle misteriose atmosfere e la grande vitalità racchiusa in questi balli. Un modo attraverso i passi di ballo che consente di imparare a conoscere meglio se stessi, a scoprire una nuova sensualità e ad essere travolti da tanta energia positiva, perché non c'è parte del corpo che resterà ferma e che resiste al ritmo della clave. Grazie a tutti.